Noi là, in là, in là, in là. Giovedì 3 marzo si è svolto a Cuneo un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Il titolo della giornata è stato Le sfide delle edilizze del futuro. Riqualificazione, tecnologie, innovazioni, smart building, materiali e sostenibilità. Tanti temi che sono stati raccontati dai protagonisti della giornata. Abbiamo iniziato già dall'attivazione del nostro impianto ad invitare gli architetti, i professionisti, oltre a chi lavora al materiale, nella nostra azienda, per conoscere la produzione e come viene creato il materiale. Crediamo sia indispensabile per chi progetta e interpreta il nostro prodotto conoscere da dove nasce e come viene il prodotto. Quindi apriamo le porte agli architetti e li invitiamo in sede per fare un tour proprio all'interno di quella che è la produzione. Chi è interessato a questo tipo di iniziative e a cosa può fare? Sicuramente può mettersi in contatto con il distributore di zona che preside il territorio o contattarsi direttamente e fissare un appuntamento. A volte questi open house sono aperti anche a pochi professionisti che coinvolgiamo e portiamo in azienda e in qualche modo gli facciamo fare il tour anche se sono un numero ridotto. Inoltre partecipate, secondo me sappiamo, a questi convegni che rappresentano sicuramente un momento importante anche di confronto. Certo, questo è un approccio diverso, cerchiamo noi di andare incontro al professionista e quindi trovarsi in questi loghi in cui si fa formazione per raccontare quello che è il nostro prodotto e in qualche modo presentarci direttamente e far conoscere il materiale. Grazie a tutti!